Ciao a tutti, siamo Torilli Leone Rhapsody, Patrice, Luca Torilli, vorrei dire che il 22 marzo del 22, in Chile, il nostro canale, per un'ottima notizia, il Teatro Capolican, come sempre, e ci saranno molti nuovi canali, nuovi canali, dal debut album Zero Gravity, Rebirth e Evolution, alcuni oldi, quindi è davvero divertente per tutti. See you there, ragazzi. Love you. See you, thank you.